Speriamo, ma giunge il tempo delle campane con i morti che sospirano sotto gli abiti neri e i fiori appassiti. L'aria si tende sotto il peso silenzioso dell'angoscia nel vestibolo della chiesa circondato da aromi di paraffina. Angeli passeggiano fra i muri, secondo il credo e il desiderio. Altra forma è il tempo, sotto i voti stanchi dei santi e salmi egheggianti. Avrei voluto morire in uno di quei giorni senza il mio ateismo e l'erotismo lontano che raggiunge il cielo prima delle preghiere e dei cieli. Grazie